Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marzillio, ha presentato ufficialmente il nuovo direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile. Mauro Casinghini, 50 anni di Roma, è stato nominato dalla Giunta a fine agosto. Casinghini attualmente ricopre l'incarico di direttore generale del Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Militare Ordine di Malta. È dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, attualmente in aspettativa per l'incarico all'Ordine. Il nuovo direttore è laureato in coordinamento delle attività di protezione civile, successivamente rischio ambientale e protezione civile. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi. Fa parte anche del supporto al Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza Covid-19. L'incarico per la regione Abruzzo ha una durata triennale e c'è stato un avviso di selezione pubblica. Sull'Agenzia c'è stata qualche polemica, ma Casinghini, che si definisce un tecnico di protezione civile, la spegne subito. La struttura rimane quella, i dirigenti rimangono quelli. Ovviamente è una struttura che ha bisogno di continui implementazioni, perché sappiamo quanto sono importanti i temi di protezione civile, specie per quanto riguarda la previsione e la prevenzione, ovviamente in preparazione alla gestione delle emergenze. Per un tecnico di protezione civile l'Agenzia rimane una delle strutture più funzionali per la gestione delle emergenze. Questo perché non risponde la protezione civile a una gestione ordinaria, come potete immaginare. Quindi, al di là delle polemiche, io credo fortemente, intanto ringrazio la Giunta e il Consiglio per aver approvato la legge sull'Agenzia, perché è una mossa sicuramente molto importante che darà sicuramente i suoi frutti nel futuro. Casinghini conosce molto bene il territorio abruzzese, ha avuto un grande impegno anche per i terremoti dell'Aquila del 2009 e successivi del centro Italia. Parto, questo lo voglio dire, dal sentimento forte di vicinanza a chi ha subito queste emergenze nel passato. Io ho speso tantissimo tempo qui per il sisma del 2009, per il sisma del 2016, per gli incendi, l'incendio del Murrone del 2017, per la nevicata del 2017, eccetera. Quindi è proprio da questo che parto e certamente faremo del nostro meglio per attenuare l'impatto emergenziale proprio attraverso una forte previsione e prevenzione.